Due partite, due vittorie. Non c'è modo migliore per festeggiare la conquista di una finale. Il Tor Sapienza si guadagna con pieno merito l'ultimo atto del torneo Tortora, dove se la vedrà con la Vistartena, campione in carica della manifestazione. Padrone di casa senza gli squalificati Perla e Palombi, ospiti con solo 15 effettive a disposizione dopo le detenzioni dell'andata. Il Tor Sapienza parte dal confortante 4-2 di Rieti, ma non si accontenta di gestire la gara. Cernera lavora bene il pallone in aria, Perfili prova a piazzare il sinistro palla alta. Al dodicesimo rischia strano, leggermente in ritardo su Fior di Ponti, l'arbitro lascia correre. Poi punizione insidiosa di Amadei, ben controllata da De Luca. Cambio di fronte, assist di Perfili per Ciurluini, chiuso in uscita bassa da Mennini. Al venticinquesimo ancora Tor Sapienza, Cernera rientra sul sinistro, conclusione controllata con sicurezza dal portiere del Rieti. Al trentasettesimo, la migliore occasione del tempo per gli ospiti. Di Lorenzo in aria per Gentili, controllo e destro, un grande De Luca respinge in tuffo. Passa così poco più di un minuto ed è il Tor Sapienza a passare in vantaggio. Cernera lavora bene il pallone in aria, si crea lo spazio per la conclusione e trova l'angolino alla sinistra di un immobile Mennini. Risposta del Rieti con un'altra punizione di Amadei che De Luca alza in corner. Finale di tempo per i padroni di casa. Prima girata di testa di Cernera controllata da Mennini. Poi è ancora più bravo a rispingere il sinistro in corsa di Di Silvio, proprio al quarantacinquesimo. È di marca ospite la prima occasione della ripresa. Palla buona sul destro di Scardaone che però colpisce male svirgolando col destro. Cambio di fronte e sinistro dal limite di perfili controllato a terra da Mennini. Il Rieti prova quantomeno a trovare la rete del pareggio. Fior di Ponti non va lontano dallo specchio con un tentativo di esterno destro in area. Altra conclusione, sempre con l'esterno, dello stesso Fior di Ponti al ventiquattresimo, pallone che scivola sul fondo. Passa un minuto e Torsapienza raddoppia. Cannizzo vede l'inserimento di Ciabatta e lo serve con un perfetto assist in area. Controllo e Tocco che supera Mennini in uscita bassa. Qualificazione già decisa ma occasioni che non mancano. Fior di Ponti va vicino al 2-1 con un diagonale che sfiora il palo. Di Silvio supera anche Mennini ma a porta vuota ci pensa Salve ad allontanare la palla. Al trentottesimo gran giocata di Olivieri cui solo la traversa nega la gioia del gol. Poi è Beidon a non inquadrare la porta sotto misura dopo una rispinta corta di Marcangeli. Sugli sviluppi del corner seguente bravo il neentrato Natali sul colpo di tesa sotto misura di Viola. Ultimo sussulto del Rieti al quarantatresimo controllo e gran sinistro di Amadei sul quale De Luca non può arrivare. Finisce 2-1 e Rieti ad anche inconsolarsi con la proporzione in elite. Il Tor Sapienza può invece coronare con la conquista di un trofeo una stagione senza dubbia positiva.